L'inferno fase 2. Prima del rilascio da Goliottok ci avevano fatto firmare una carta dove dicevamo che non avremmo mai parlato con nessuno di Goliottok. E invece di Goliottok parlano Elio De Capitania e Renato Sarti nel loro nuovo spettacolo al teatro Elfo Puccini di Milano fino al 13 aprile. Uno spettacolo sull'isola Lager dell'ex Yugoslavia. Il dubbio più forte della certezza è che Goliottok non si nominava mai. Per dieci anni ha avuto il terrore. Goliottok non esisteva, non è mai esistito, non lo nominavo mai. La storia raccontata è quella di Aldo Juretich che dopo la seconda guerra mondiale ha vissuto la terribile esperienza di Goliottok. Questa era la particolarità di Goliottok. Tu vieni costretto da questa macchina infernale, appena stai lì dopo un po', a diventare il torturatore di quelli che arrivano dopo. Perché era l'autogestione del terrore la perversione di questo Lager Tito. E poi anche la grande contraddizione di un uomo come Tito che ha fatto i non allineati la rottura con Stalin e che era stalinista con gli stalinisti. Ha fatto il peggior culo. Quindi è una ferita che ha lacerato enormemente ma che bisogna raccontare. Questi testimoni vivono uno scontro direi quasi titanico interiore. Cioè da una parte per coscienza politica, per educazione politica, per preparazione politica, per senso civile. Sanno che devono raccontare. Però nel momento in cui incominciano a inverdire quei tragici, quei orribili ricordi, sanno che tornano gli incubi, inevitabilmente. E quindi c'è questo scontro terribile all'interno di Aldo. Credo anche da parte di Elio e di Dottori questo, di questa doppia faccia. Cioè da una parte il dover raccontare e allo stesso tempo sapere che questo raccontare significa dolore in me. C'è un altro aspetto che è lacerante per Aldo. È vedere che succede ancora. Cioè Aldo diventa matto quando assiste nel nostro paese a Bolzanetto. La frase che dice la sua fine sua secondo me è fondamentale. Cioè lui dice tutta questa mia sofferenza non è servita a niente se non se ne parla. e questo mi fa ancora più male, questo ancora mi fa ancora più male. È ripetito tutto quello che ha passato. Perché dice di nuovo. E com'è possibile? Cioè l'uomo torna ad essere bestia così e di nuovo non succede una sollevazione. Anzi si fa un indistinguo, si sminuisce, si nega, si dà... Ecco qua. Grazie a tutti